Ciao mamma. Dov'è tuo padre? Non lo so, è uscito. Va bene ma dove è andato? Rilassati mamma, stai gridando. Hai ragione, è spiacevole Brenda. Scusami tesoro ma me la sto prendendo un po' con tutti oggi. Per quale motivo? L'intera giornata è stata un vero incubo e devo andare anche a Pittsburgh domani. Perché a Pittsburgh?